Unirà due province, quella di Pesaro Urbino con quella di Ancona, oltre che due città, Marotta e Senigallia, che da tempo hanno fatto della mobilità dolce uno dei propri cavalli di battaglia. È stato presentato la stampa questa mattina in una conferenza stampa fiume con tutti i protagonisti di questo strategico progetto, il ponte ciclopedonale sullo fiume Cesano, che nel 2021 dovrebbe vedere l'avvio del suo cantiere. Lungo 196 metri, a tre campate, di cui quella centrale con un ampio arco inclinato di 86 metri e due campate laterali di 55, interamente realizzato in acciaio, con una larghezza di 5 metri, di cui tre a disposizione delle due ruote, del costo di 2 milioni di euro, e progettato interamente dalla Regione Marche e che farà parte del progetto di cui la Regione Marche è capofila, la ciclovia adriatica che partirà da Trieste ed arriverà sino al Gargano. Noi siamo a Regione Capofila, attraverserà tutte le Marche, 260 chilometri, la metà peraltro già realizzate e finanziate, dove si innestano poi altri percorsi che vanno verso l'interno. 13 ciclovie che risalgono tutti i fiumi delle Marche, con 500 chilometri di piste, anche questi per la metà realizzati. Sono un grande progetto di mobilità sostenibile che guarda con grande attenzione queste infrastrutture per l'ambiente, per la qualità della vita, ma anche per il turismo. Le Marche, con la sua rete a pettine di ciclabili che unirà la costa e l'entroterra, rappresenteranno per il futuro un'attrattiva ancora maggiore per turisti da ogni parte del mondo. Non è un caso che l'Onely Planet abbia riconosciuto le Marche come seconda top destination al mondo, questo significa che dal punto di vista turistico e della qualità abbiamo fatto grandi passi avanti. Senigallia e Marotte, assieme a Fano, sono uno dei tasselli di questo piano strategico, già finanziato per 50 milioni di euro con fondi europei e interni, che consentirà nel 2025 di vedere 166 chilometri su 297 di ciclovia adriatica realizzati. Una volta si chiamavano la viabilità alternativa, la modalità alternativa, io invece sono convinto che sia quella e dobbiamo pensare principalmente alla viabilità ciclabile e poi la risulta è quello che ci permette di gestire la mobilità tradizionale. Molti comuni stanno facendo queste scelte, la regione Marche ha avuto il grande coraggio di diventare capofila nella ciclovia adriatica e i risultati si stanno vedendo. È un'infrastruttura che unisce le persone e i territori, l'abbiamo detto oggi in presentazione, unisce le persone, unisce i territori, gli operatori turistici, si intensificheranno ancora di più i rapporti e le collaborazioni tra amministrazioni comunali e tra operatori turistici dei due comuni e delle altre realtà.